Sì, sicuramente mi è entrata. Anche questo mattino ho visto tutte le facce un po' diverse, un po' sempre positive e per noi quando le facce positive non più o non nervose, noi giochiamo meglio sempre. La mattina è l'ultime due allenamenti che io ho anche allenato, i primi due allenamenti, però non. E' un po' anche necessario, perché ho vinto e prezziare anche questa cosa positiva per noi, secondo me è difficile. Per me è possibile giocare il nostro medico, però non è andato bene. Sì, qualche cosa ho allenato in migliore. No, non lo so. Niente da dire, sono contenta. La palla con Marti sta venuta molto bene. Questo è incredibile. Non c'è Desi che è l'ultima gara che lei ha giocato, ha fatto 26 punti, perché 5 punti speriamo che lei riconoscia. Può dare anche molto meglio, perché con Desi apriamo un po' per Sara. Se non c'è Desi è sempre quasi uno due per Sara. È quasi difficile per Sara. Grazie. 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 Grazie.